musica 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 venite qua, venite vicino a me, guarda guarda, io sono già a metà funziona, funziona che cazzata è no, no, adesso c'ho di nuovo il radar per farti capire, io ho la cura faccio te che tu uso ragazzi, ma cos'è? ho la cura di nuovo ragazzi, metti la granata metti la granata di supplico qualcuno metta la granata la metto io, la metto io, fermi, fermi metto la granata fatemi mettere la granata oddio, mi sta spavendo qualcosa di fatto venite qua, venite qua, curate fermo, fermo, non gli sparare vai, vai, continuate a curare continuate a curare curato io no, vabbè, regà, la spammo, fermi, fermi fatemela rifare no, guarda, la spammo curate, 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 spammatele pure guarda cos'è sta roba io metto con la stazione cos'è sta roba no, vabbè, regà così possiamo camperare no, vabbè, cos'è sta roba cos'è sta roba stavo creduto ragazzi vabbè, spammate cure, regà che bordello questo qua è una folla per me veramente vai, proviamo vediamo se funziona anche se curate, curate, curate si ricarica no, perché ha un po' di... no, ma questi sono i miei mi sono a spammare cure, regà fate fermi, spammate cure ma quanto danno faccio fortino non si carica non si carica più velocemente però la differenza non è tanta non è tanta, però si nota sulle... sulle altre cose ma ragazzi ma è assurdo è assurdo è assurdo per me è un po' glitchato un po' ragazzi salite su, salite su tranquilli fammo cure ragazzi sappiamo un trucco per come finire il raid easy si, si, io lo faccio alle due di notte il raid dall'altra parte ora lo facciamo in due il raid la super ragazzi la tiro su questi venitemi accanto poi non gli sparate i nemici continuate solo a curare venite qua io metto pure i danni tra l'altro fermo, fermo, fermo non sparate aspettiamo che finisce no, ma lei li applaud, aspetta dai, continuate a sfullarvi che stifo, regà aspettiamo che finisce voglio vedere se si carica è una scandalo no, non si carica la super non viene la barra che non sale no, la super no vabbè, vabbè però va bene con le abilità forte si, si perché poi ti ricarichi l'abilità che hai appena usato è sgravissima questa cosa secondo me, Drew, sai cosa c'hai? c'hai sull'arma tipo quella per ogni edge che fai ti ricarichi l'abilità ragazzi, devo andare in pvp e usare solo le bombe una volta le dico che pizzi sulle mico quattro bombe ma va 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 c'hai regà che siamo i più porchi del live va 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 bo 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 esplosione cura ma tu pensa se metti la cassa per terra e c'è quello lì che ti sovracura con la cassa oddio, però io ho la cassa eh, ma ce l'hai l'abilità per sovracurare? beh ragazzi io sto registrando in tutto questo e voglio dire venite tutti qua vicino che annunciamo questa cosa che abbiamo scoperto uno dei modi più sgravi e per essere godlike in questo gioco praticamente basta andare su abilità andare sui talenti e mettere questo talento triage descrizione meno 15% tempo di recupero delle abilità quando curi un alleato benefici riduzione tempo di recupero e influenza tutto il gruppo quindi se lo tiro io non solo recupera le mie abilità ma anche quelle di tutto il gruppo se lo tira un altro è la stessa cosa quindi ora se noi stiamo tutti vicini spammate le cure guardate in basso a destra la cura già si è caricata cioè volendo io la potrei ritirare cioè ma cosa succede se io faccio così e la tolgo è una cosa illegale cioè in questo modo la cosa bella ma non è ancora più istantaneo la cosa bella è che se avete visto vale anche con i danni quelle cose che fanno danno quindi se voi utilizzate la cura e in più avete che ne so la bomba adesiva o se no avete che cazzo ne so le mini a ricerca tutte queste cose le potete spammare quindi let's go guys spero vi sia piaciuto questo video un saluto da Drew Max Trazze Stabi tutti i ragazzi in parti e ovviamente un ringraziamento speciale a Matti e Frusta per avermi detto di questa cosa let's go